E' pronto? Mi hai cercato? Perché non rispondi mai? Perché non rispondo mai? Allora? E no, stavo all'estero. Vieni subito qua da me. Quando? Adesso. Adesso proprio me. Ho voglia di fare l'amore con te. E tu? Io... Arrivo. Arrivo. Perché non apri questa? Questa? Non è freddo. Conociate che potremmacchia non freddo? No, proprio... Possiamo parlare prima? Dopo parliamo. Dopo parliamo. No, stai a me. Aspetta. Che succede? Mi devi fare il gatto. Come il gatto? Il gatto. Ma adesso... Me l'ho fatto l'altra volta. Sì, ma non mi viene. Ma non mi viene. Sì, ma non... Di più. Di più. Quando ci vediamo? In che senso? Beh, ci sono le vacanze. Possiamo organizzare qualcosa insieme, no? Ma appunto ci sono le vacanze di Natale. Cioè, io devo stare con la mia famiglia, purtroppo. Ah, ho capito. Quindi io dovrei fare la parte dell'amante che sta a casa e ci aspetta. Mentre tu passi il Natale con la tua famiglia, hm? Ma... Ah, ah, ah. Ah, ah. Ahia. Ma tommeno. No, ma... Non è che per una volta... Due. Ma secondo me non vale. Ci siamo visti per caso, dai. Comunque... Con questo. Sono tre. Ah, beh. Ma se no, per tre volte uno può dire che... Che è l'amante. Sono incinta. Sei incinta? Sono incinta. Ah. Ah. E poi? E quando? La finale di calcetto. La finale di calcetto? Del torneo Bitonto. Del torneo Bitonto. Ti ricordi? Ti ricordi? Amore. No, ma non è che... Amore, tutto a posto. No, non è tutto a posto. Che... Mi sto sentendo troppo bene. Ti chiedo tranquillo. Abbracciami, abbracciami. Abbracciami. Senti, io mi sono ricordato che devo fare una cosa importante. Ma tra un'ora ti chiamo, così parliamo... Diciamo, parliamo con calma di questa cosa che... Ti chiamo io. Ti chiamo io. Che sei venuta a fare? Io non mi muovo di qua fino a quando tu non dici qualcosa. Senti, ma ti rendi conto che stavo tutti sopra, che mi stavano aspettando? Ho bisogno di sapere che intenzioni hai. Che intenzioni ho, secondo te? Possiamo parlare dopo le feste, eh? Ma tu mi vuoi... Mi vuoi rovinare? Sì. Buon Natale, Deborah. Salve. Damiano. Padre. Ho fatto un salto prima della messa. Ah. Mi fa piacere. Beh. Eh sì. State andando sopra? E va. E andate. Io adesso arrivo. Ti è deciso? Oh, non creda. Lo capisci che non è una decisione che possiamo prendere così su due piedi? Sai cosa? Tu. Tu non avrai mai il coraggio di decidere niente. Questa è la verità. Nulla. Sai che c'ha ragione? Allora sai che facciamo? Adesso andiamo su e lo diciamo a tutti. Come? Andiamo su e lo diciamo a tutti. E poi? Poi vediamo. Andiamo dai. No. Mamma. Io lo dico io. Io lo dico io. mei. Ciao. 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 Buongiorno. Ciao. Grazie a tutti